150 espositori provenienti da tutta Italia saranno presenti a Lecce dal 30 maggio al 2 giugno per l'expo più atteso dell'anno, Cibarti, la fiera nazionale dell'artigianato artistico e agroalimentare. Una vetrina importante per tanti piccoli imprenditori e per la città, quest'anno infatti la novità più interessante è la location, non più il pallafiere come lo scorso anno ma il salotto buono della città, l'incantevole piazza San Toronzo e tutto il centro storico. Camera di commercio, confartigianato, regione, provincia e comune di Lecce hanno lavorato all'unisono per supportare l'evento che porta la firma di Big Bang SNC di Paolo Notaro. Io credo che queste iniziative hanno due funzioni fondamentali, quelle di accompagnare il sistema delle imprese a connettersi meglio con il mercato, essendo il nostro sistema un sistema di piccole, piccolissime imprese, ma hanno anche la funzione di infondere motivazione, quasi di risvegliare un orgoglio identitario. Cibarti naturalmente si inserisce come ormai da tradizione nello schema, in questa serie di iniziative volte a promuovere il territorio, le nostre eccellenze, in questo caso nel campo dell'artigianato artistico e dell'agroalimentare. È un salento in crescita straordinaria. Che tantissimi espositori vengano a Lecce in questo fine settimana significa che considerano Lecce una piazza interessante da coprire. Merito a confartigianato, merito alle alleanze che confartigianato sul territorio è riuscito a creare, perché tutte le istituzioni sono presenti e fiancheggiano questa iniziativa. Merito ai nostri operatori artigianali. Presentiamo le eccellenze dell'artigianato non solamente salentino, ma dell'artigianato che proviene da tutte le regioni d'Italia. Perciò è un momento sicuramente di promozione del nostro salentino e del territorio dell'artigianato, ma anche un momento di reale confronto con gli altri artigiani, artigiani di grandissima eccellenza, che dimostreranno dal vivo quelle che sono le loro capacità.